modello autocostruito questo faccio vedere il mio figlio e l'hai fatto tu? si aspetta che lo filmo prima che si rompe non si rompe? mi dai dello scotch che qua non sta mica chiuso pensate a una grande tecnica metto lo scotch prima che si rompa così quando si rompe ha già lo scotch e rimane intero questi sono ragazzi statemi lontanati il motore gira a rovescio è meglio? perché? perché scusa non è meglio alla rovescio pensate la tecnica anni e anni di studi il motore gira a rovescio ma andiamo a vedere gira a rovescio quindi cosa cosa basta invertire gli schinocchi l'avevi invertito ma l'avevo fatto così c'è un attimo d'atteso perché abbiamo un problema tecnico già fatto? si eccezionale ragazzi già fatto pronti siamo pronti eccezionale signori signori andiamo a vedere io mi sposto come mai non si fida del suo non è che non mi fido allora allora arrivo a compagni ecco non avrete tutti quelli di moto con quegli elacri ehi ha fatto meglio? il roll è venuto bene vedi che però la tecnica oh ragazzi la tecnica la tecnica di mettere lo scotch prima guarda che è interessante questa cosa non ha funzionato si fa lanciato la rovesio vedi che aveva fatto bene lui con l'elica alla rovesio perché un doppio contrario fa un dritto ragazzi quindi quindi è finito come è finita è finito tutto l'aereo si mette di rovesio così per questo perché c'è troppo è a nedro non ha dietro quindi lui vuole volare così non guastiamo no è che andavano fatti questi più alti e questa parte pare oh il disegno era così io l'ho fatto come il disegno abbiamo un bidone non ti sto dicendo no 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 un buon un buon funerale vichingo no non si frutta niente a casa mia posso fare perché mi vale meno vale quindi vuoi salutare tutti gli amici ciao a tutti è stato bello un po' di difficoltà in partenza che è signor che è Umberto spiegami cosa stiamo facendo stiamo tentando di mettere in moto ma il motore è troppo magro e non parte e ha poca batteria e lui com'è il pilota è magro no il pilota era magro prima dei tortellini di ieri sera poi quindi stiamo vedendo un grasso che sta mettendo in moto un magro da quante ore è qui da stamattina alle 7 più o meno poi da finita l'operazione mi vado a pesare provo adesso chi è lui lui che è vando ma cosa fa l'assistente lui fa l'assistente meccanico io sono 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 lo sfigato d'acqua ecasa tagli un altro ciccchetto ancora nel final non riesce a prodigie pensate in 8 per mettere in moto l'aereo av이트 capito perché si è passati alla batteria all'elettrico infatti se vuoi provare a farlo volare ti devi mettere il motore elettrico dicevo se vengo oggi pomeriggio vi trovo? tu resti per caso anche perché dal 2030 non può più volare qualcuno che può dare il cambio al grasso guardate l'avviatore tira indietro ha sentito la mano del padrone no! no! era grassa era grassa ha avanzato troppo sembra che faccia l'amore con l'aereo vedete che lo impunta no vai pure avanti che si vede che se lo impunti quindi mi spiace per gli amici che avrebbero voluto vedere la partenza ma c'è delusione c'è una grande illusione qui non parte niente no! no! Grazie a tutti.